che taglia il vento della città, che taglia i servizi sociali alla povera gente, agli abitanti delle periferie. Chiediamo che il Consiglio Comunale si interrompa per discutere finalmente con i cittadini di questa roba capitale, capitale della mafia, della gestione privatistica alla quale il sindaco Marino ha deciso di dare una completa copertura. E' questa la novità che questo sindaco riesce a fare quello che non ha fatto alle manno con ulteriore privatizzazione di Acea. Di fronte a questo è fondamentale continuare a manifestare, costruire l'alternativa a questa città e mandare a casa Marino. Non può essere una caserma, non può essere un ambito dove i diritti dei lavoratori viene calpestato, non può essere un ambito dove invece di andare ad alimentare quella dimensione di diritti e di dignità, di solidarietà, i rifugiati vengono trasformati in mecce. Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Licenziati dalla Roma molti servizi che hanno partecipato del Comune di Roma che il loro piano di rientro doveva salvaguardare. Questo è il modo di salvaguardare i lavoratori, questo è il modo di salvaguardare i servizi, questo è il modo di trattare Roma. Sta licenziando, ecco quello che fa questo sindaco. E quando si accorge che i licenziamenti sono frutto di Roma mafia capitale, arrivano i suoi dirigenti e gli offrono 15 ore a settimana, a dei padri di famiglia, a gente che deve pagare mutui e tirare sui figli. Questo è il rispetto. Il sindaco Marino, servo del governo Renzi, ha deciso di vendere. Roma la sta vendendo un sindaco che di Roma non sa niente.